A processo dopo aver abusato sessualmente dell'amica ipovedente e ora rischia una pesante condanna anche se per la difesa dell'uomo si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. La pubblica accusa ha infatti chiesto 12 anni di reclusione per un 34enne originario del nord Italia all'epoca dei fatti, impiegato come ha detto alle pubbliche relazioni in un locale della Perla Verde che nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2015, dunque quasi tre anni fa, a Riccione si era introdotto nell'abitazione di una sua amica, una ragazza ipovedente, per poi avere con lei un rapporto sessuale. Per l'accusa si trattò di stupro. Di diverso avviso l'avvocato difensore del 34enne, Maddalena Mazzoli, che ha chiesto la soluzione per i propri assistito perché si sarebbe invece trattato solo di un rapporto consensuale, una vicenda dai contorni ancora in parte da decifrare e che peraltro avrebbe avuto sviluppi paralleli. Tra i capi di imputazione infatti c'è pure la rapina. Quando fu fermato dai carabinieri, il 34enne aveva con sé il telefono cellulare, gli orecchini della ragazza, oggi 33enne. Secondo la sua versione, si tratterebbe di due regali di lei. L'imputato, all'epoca dei fatti, lavorava come ha detto alle pubbliche relazioni in un locale della Perla Verde insieme alla fidanzata. Era stato ospitato in precedenza dalla 33enne, costituita si parte civile e rappresentata in giudizio dall'avvocato Alessandro Totti. Il processo in tribunale rimina alle battute finali. Tra una settimana arriverà la sentenza.